All'inizio del mese di marzo il vice capo vicario della Polizia di Stato, il prefetto Marangoni, ha comunicato ai sindacati la linea guida del progetto di razionalizzazione dei presidi territoriali di polizia che prevedono tra le altre cose la chiusura della sezione ragusana della Polizia Postale. Una notizia che provoca un certo allarme nel territorio ebleo e il senatore di Forza Italia Giovanni Mauro si dice preoccupato. Proprio mentre sono sempre più frequenti i reati commessi per via informatica, chiarisce Mauro, da quelli più diffusi come la diffamazione fino ai più gravi come la vendita, il possesso di materiale pedopornografico e la stessa pedofilia, è inaccettabile venire a sapere della chiusura di un così importante ufficio di polizia. Il provvedimento, spiega il senatore Forzista, rientrerebbe nell'ottica della spending review. Eppure sappiamo che il servizio espletato da questo particolare corpo di polizia si svolge all'interno delle sedi di poste italiane, con le spese di funzionamento a totale carico di questo ente, eccettuati ovviamente gli stipendi degli agenti di polizia. Tenuto presente inoltre che alla chiusura di questi presidi non seguirebbe il licenziamento dei dipendenti, non è chiaro a nessuno in che modo questa decisione potrebbe essere di un qualche vantaggio economico per le casse dello Stato. L'unico discutibile risultato sarebbe quello di privare il territorio di agenti di polizia altamente specializzati in campo informatico, continua l'esponente di Forza Italia, ad esclusivo vantaggio della criminalità che opera per mezzi informatici, altro che spending review. Per questa ragione, conclude Mauro, annuncio un mio intervento con un'interrogazione rivolta al governo e al ministro competente per chiedere le ragioni che hanno spinto tale decisione e fare auspici che la chiusura della sezione di polizia postale di Ragusa, come di altre 72 sul territorio nazionale, possa essere scongiurata. Grazie a tutti.